E alle nostre spalle c'è il palazzo ex Inam. Ce lo mostrano le immagini del nostro operatore Donatello Ricci, una struttura che oggi è completamente abbandonata, ormai è così da anni. Si torna a parlare però della possibilità di realizzarvi un parcheggio multipiano grazie ad un accordo che potrebbe esserci con la Asla, ci sono stati già incontri in questo senso perché in realtà la trattativa va avanti seppur ad un certo punto interrotta dal 2017, che sarebbe strategico, funzionale alle esigenze del centro storico proprio perché in prossimità e andrebbe a risolvere certamente disagi e problematiche che in questo momento attanaiano la città per quel che riguarda i posti auto. Si torna a parlare del parcheggio multipiano all'ex Inam in via 20 settembre. Asla e Comune starebbero riparlando della questione, così come ha risposto il capogruppo di Forza Italia Giorgio De Matteis ai consiglieri Palumbo e Albano, che su questo in consiglio comunale avevano presentato una mozione. Già ci sono stati degli incontri sul tema, secondo ciò che ha riferito Giorgio De Matteis e il nuovo manager Ferdinando Romano, si sarebbe detto disposto a trovare una soluzione. Le trattative per quell'area in realtà risalgono al 2017, si voleva far sì che la struttura andasse al Comune, l'ente avrebbe dato in cambio edifici comunali alla Asla, ma poi la trattativa si blocca, tanto che è se un bando di gara della Asla stessa, per demolizione e ricostruzione della struttura e per farci il nuovo centro direzionale, si leggeva così nel bando. Uno dei primi sostenitori della possibilità di un parcheggio in quella zona ormai abbandonata e anche vandalizzata, fu il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci. La posizione del resto sarebbe strategica e in prossimità del centro, per risolvere la difficile problematica dei posteggi. Una possibilità che quindi sembrava accantonata, ora torna in auge. Il Comune ha individuato già con il piano urbano della mobilità quattro nuovi parcheggi, ma in modo temporaneo, ne realizzerà uno nuovo in Biantinori a servizio delle zone della Fontana Luminosa di Piazza Chiarino. Questo perché ci si è resi conto della carenza e della presenza invece di molte attività commerciali e di residenti. Così l'architetto Roberto Evangelisti, dirigente della ricostruzione privata, ha firmato una determina ed è stato già approvato il suo progetto in un'area di circa 500 metri quadri. In centro, del resto, molti spazi sono presi da cantieri e deors, per cui ci sono in effetti dei parcheggi sacrificati. Per questo ci cercano anche risposte di questo tipo, seppur temporanee e in attesa della realizzazione dei parcheggi vera e propria.